Agnese Ginocchio è stata nominata a far parte nella Commissione Provinciale per la Parità dei Diritti e delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna. Mediante documento presidenziale sono stati comunicati ufficialmente dalla provincia di Caserta, presieduta dall'On. Domenico Zinzi, i nominativi facenti della nuova Commissione Provinciale per la Parità dei Diritti e delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna. La testimonial per la pace ha così riferito, non me l'aspettavo proprio più, sono contenta di questa nomina quale rappresentante della zona del Matese dell'Alto Casertano, in quanto potrò farmi portavoce e portare al tavolo della Commissione le istanze di problemi delle fasce più deboli e disagiate. C'è da dire che Agnese Ginocchio è ideatrice di tante iniziative di alto contenuto morale e civile, fra queste si segnala il Premio per la Pace Donna Coraggio, assegnato a donne della provincia e non solo, impegnate sui comuni percorsi delle tematiche civili, della legalità, delle parità dei diritti e della pace. Auguri dunque a questa piccola e grande donna della nostra terra, che con la sforza continuare a percorrere oltre i confini e penetrare fin nelle viscere di coloro che, con la loro indifferenza, continuano a far finta di non vedere, di non sentire e di non udire.